... Mister, uscite da Bocale con 6 gol, certo era uno scoglio difficile per la sua squadra che sta cercando comunque con orgoglio e rispettando ogni incontro di arrivare alla fine di questa stagione che almeno inizialmente sembrava potesse essere diversa, poi le note difficoltà hanno portato a questa attuale situazione. Sì, noi abbiamo scelto di fare una scelta di umiltà e di grande dignità per quanto riguarda la situazione calcistica e umana della nostra società. Siamo partiti con dei giocatori che a dire di tutti quelli che fanno parte di questo campionato avremmo potuto fare un campionato diverso con una salvezza tranquilla o magari ambire a qualcosa di più importante però abbiamo fatto una scelta a dicembre di rispettare quelli che sono i canoni della nostra società e cioè il valore umano piuttosto che il valore professionale o il valore calcistico e quindi abbiamo mandato a casa, abbiamo fatto dei trasferimenti per quanto riguarda sia tesserati all'interno del campo che societario quindi calciatori, mister e quant'altro per lasciare spazio veramente alle persone che meritano e che hanno fatto questa società gloriosa gloriosa non a livello di prestazioni calcistiche ma a livello di umanità. Abbiamo richiamato dei calciatori, dei tesserati che non calcavano più queste categorie per poter affrontare questo campionato di promozione e portarlo fino in fondo perché noi abbiamo una dignità, abbiamo dei valori che vanno al di là del calcio e quindi abbiamo deciso di poter onorare questo campionato, portarlo fino alla fine e rispecchiare quelli che sono i valori della squadra cioè il sentimento del calcio non soltanto come vittoria ma come seconda pelle e comportamento al di là della situazione calcistica. Proprio al riguardo penso che oggi la sua squadra ha dimostrato di essere attaccata alla maglia, ha lottato fino alla fine gli ultimi minuti praticamente va bene non si è più giocato però per i primi 80 nonostante il passivo, nonostante il vocale infierisse la sua squadra ha combattuto, era in pressing costante sull'avversario. Guardi noi otteniamo attestati di stima da parte di tutte le squadre sia per quanto riguarda il valore tecnico perché ci sono due o tre elementi come il portiere che è il 2002 Serafino Ianni, rappresentante della nostra Calabria alla rappresentativa regionale nel torneo delle regioni, quindi un allievo che si contraddistingue e che ha avuto poco spazio perché prima di lui c'era un altro che queste categorie, diciamo che sia un lusso che era Francesco Panuccio, che noi abbiamo scelto di non tenere proprio per dare spazio a questo giocatore che è Serafino Ianni e che sicuramente avrà il futuro dalla parte sua oltre il presente. Pensiamo che questo ragazzo non debba far parte della nostra società, ci sono delle società professionistiche che ne sono dietro e speriamo che possa calcare Polkoscenici che merita la sua professionalità. Però al di là del singolo giocatore noi, come ripeto, affrontiamo tutte le partite dallo 0 a 0. È normale che i limiti tecnici, i limiti tattici, i limiti fisici, anche perché non avendo dei campi, delle strutture dove poterci allenare, noi pensi che il martedì e il giovedì ci alleniamo a lungo mare perché non abbiamo una struttura, il nostro campo, il nostro rettangolo di gioco è stato chiuso dall'amministrazione comunale non l'amministrazione comunale, l'amministrazione giudiziaria perché il nostro paese è sotto curatela sotto l'amministrazione giudiziaria perché è stato sciolto per mafia quindi oggi l'andazzo del paese di Gioia Tauro è così e quindi rispecchia anche il valore calcistico speriamo e facciamo gli scongiuri che almeno la squadra di Gioia possa portare avanti questo obiettivo che è quello della permanenza in promozione, almeno per avere una squadra in questa categoria per il resto a tutte le squadre che ci affronteranno stringeremo le mani qualunque sia il passivo e qualunque sia la situazione di gioco che poi ne usciremo probabilmente sconfitti dentro il campo ma sicuramente abbiamo un valore grande che è quello della dignità Allora, uscite da Bocale con un passivo di 6 gol, avete comunque lottato fino all'ultimo comunque per uscire dal campo a testa alta come fate sempre ad ogni incontro nonostante appunto il campionato stai dicendo che il Real è ultimo l'impegno però da parte vostra non manca mai No, l'impegno su questo possiamo proprio dire che non manca mai per noi il passivo è vero e pesante però usciamo sempre a testa alta perché è una cosa che stiamo portando avanti con i giovani ed è proprio quello che vogliamo perché purtroppo certe volte alcune cose non si possono continuare a fare come si vogliono e bisogna andare avanti con i giovani e siamo orgogliosi di questo anche prendendo 6 gol ci aiuteranno sicuramente a crescere per l'anno prossimo e fare una squadra competitiva per la prima categoria Comunque il Real sta dimostrando tutti gli effettivi sia i titolari che i subentrati l'attaccamento alla maglia c'è e si riscontra sempre L'attaccamento alla maglia è qualcosa di indescrivibile noi nonostante la classifica ci penalizzi in tutti i modi andiamo all'allenamento e siamo tutti siamo compatti, andiamo a mangiare insieme, usciamo insieme e a volte nel calcio le cose belle sono anche queste Presidente, una vittoria mai in discussione contro questo Real che comunque è uscito a testa alta per l'impegno che ha messo in campo si tratta più che altro per la squadra di una sgambata comunque per quello che è stato l'impegno in campo era importante non fallire l'approccio questa partita ricordiamo bene cosa è accaduto col Botricello tra l'altro tra una settimana si andrà a Botricello magari in cerca di rivincita Quello sicuramente mi ammazzo se non è così a parte questa battuta che naturalmente l'esito del campo è sempre un'incognita fino alla fine della partita oggi è stata praticamente una formalità abbiamo visto che poi a metà del secondo tempo i ragazzi hanno cominciato a girare palla giusto per non essere molto severi sul risultato noi abbiamo anche un certo rispetto nei confronti degli avversari di conseguenza è giusto così il Mista ha fatto anche un grande turnover dall'inizio ad ora e dall'inizio della partita fino alla fine quindi è giusto così è stata una sgambata è stata utile in ogni caso perché Lero Secondo ha fatto gol e hanno fatto gol anche Gulli che sta giocando poco e quindi bene così bene così e speriamo che sia un monitor positivo un monitor positivo per quello che riguarda la partita di Botricello tenendo presente che oggi siamo all'undicesima vittoria consecutiva comunque adesso arrivano tre partite prima della sosta per Pasqua Botricello poi l'Africo e il recupero col filo caso poi ci sarà dopo Pasqua la partita col Gioiosa che ancora continua a vincere sarà fondamentale fare altre tre vittorie nelle prossime tre gare per arrivare perlomeno con sei punti di vantaggio sul Gioiosa sì 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 è fondamentale avere questi punti di vantaggio perché a Gioiosa sicuramente andremo a giocarcela alla Pari che loro sono una squadra sono una bella squadra sono una squadra forte hanno dimostrato anche oggi che hanno vinto in un campo difficile come quello di San Gregorio tenendo presente che insomma l'Africo non è un'altra squadra che cederà filo da torcere oggi è andata a vincere a Brancaleone la Bagnarese ha vinto largamente contro il filo caso 7 a 2 quindi siamo tutti là siamo tutti là ce la giochiamo con tutti non c'è solo il Gioiosa come non c'è solo la Bagnarese e neanche l'Africo siamo tutti e quattro insomma lì per chiudere questo campionato quindi fino alla fine secondo me fino alla partita contro il Gioiosa noi sono certo che saremo in bilico Allora mister una vittoria ma in discussione la squadra ha approcciato con la giusta mentalità ad un impegno che poteva riservare delle incognite qualora si fosse partiti non col piede giusto sono arrivati tre punti agevoli si è risparmiata anche un po' di energia è giusto così probabilmente visto che anche le avversarie come Gioiosa e Africo hanno potuto sfruttare questo bonus chiamiamolo così del Real Sì noi dovevamo superare l'handicap di una settimana di riposo quella di Filo Caso ci mancava la partita e quindi abbiamo preparato con estrema serietà questa gara abbiamo dato obiettivamente qualche possibilità a qualcuno che aveva trovato ultimamente spazio meno spazio nella squadra non vorrei chiamarlo turnover perché serve un'offesa per i ragazzi perché che sono entrate non possiamo parlare di turnover nel momento in cui oggi gioca gente come Cullini Cullini Scilipoti Bianchi questa non è gente che voglio dire che si può chiamare rincalzo sono titolari a tutti gli effetti abbiamo fatto perché l'obiettivo nostro era quello di dare tanti minutaggi ai ragazzi e soprattutto cercare di tenere tutti sulla corda perché in un finale di campionato gli altri continuano a vincere noi vinciamo di positivo c'è che gli altri mancano sei a noi mancano sette partite quindi continuiamo a mandare noi non abbiamo detto mai che una o due partite fa tre partite fa che abbiamo vinto il campionato sappiamo ce lo dobbiamo giocare lo dobbiamo lottare fino alla fine quindi ce lo giocheremo è difficile per noi ma è difficile anche per gli altri ora si va a Bodricello un avversario che evoca brutti ricordi era un Bodricello non al massimo all'andata riuscì ad ottenere a sorpresa quei tre punti ora si va a giocare contro un Bodricello più forte determinato nella ricerca della salvezza magari la volta buona per tirare noi lo sgambetto all'oro e arrivare a dodici vittorie questa è la cosa più negativa di quest'anno voglio dire fino adesso perché quel giorno pur non facendo una grande partita non meravamo certo di perdere però è chiaro il prossimo avversario nostro si chiama Bodricello e evoca un incubo più che un ricordo però per noi a questo punto non possiamo più guardare il nome della squadra dobbiamo avere il rispetto per le altre però dobbiamo giocare cercando di fare il risultato pieno perché gli altri non è che ci perdonano se noi alla fine arriveremo con sei punti di vantaggio al big match con il Gioio Osa insomma il campionato lì è fatto però è chiaro adesso ci sono tre partite da fare il Bodricello l'Africo e il recupero del 25 con filo caso dobbiamo sfruttare al massimo cercando di fare un filotto di risultati e cercando di metterci di metterci al riparo da eventuali sorprezzo però voglio dire questo lo sapevamo non è che i risultati delle squadre avversarie ci stanno facendo pensare a chissà cosa sapevamo che oggi come sono per noi sono per le altre e noi abbiamo più motivazione degli altri forse un po' di sorpresa il risultato dell'Africo a Brancaleone perché è un derby c'è molta rivalità il Brancaleone è una buona squadra veniva da una serie di partite importanti soprattutto fuori casa però l'Africo ha dimostrato anche oggi che se la può giocare con tutti e quindi anche l'Africo è una squadra da prendere con le pinze e con le molle quindi quello che dicevo sempre a te che dico anche ai ragazzi che dico anche ai dirigenti ancora non è finita dobbiamo penare però certamente se tu mi dici vorresti essere a sette partite alla fine sei punti avanti o vorresti essere dietro sicuramente ti dico sei è chiaro che il campionato passa anche dalle nostre mani solo ed esclusivamente dalle nostre mani perché gli altri poni il caso che li possono vincere tutti o quasi tutti ma se noi li vinciamo pure noi insomma non dobbiamo essere stanchi di trarre stavolata perché per lunghi tratti del giorno d'andata siamo stati terzi, secondi quarti, quinti, sesti siamo stati anche settimi quindi adesso che siamo lì non ci devono prendere le vertigine ma nemmeno l'ansia della prestazione dobbiamo stare calmi tranquilli e giocarci le partite così come ce ne stiamo giocando l'ansia Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.